Ovo ma che trovo Toy Story 2 Tante uova con dentro tante sorprese sempre diverse con gli eroi di Toy Story 2 E poi solo con Ovo ma che trovo puoi vincere tantissimi bass e udi parlanti in scatola di montaggio Da Toy Story 2, Ovo ma che trovo Giochi preziosi